Ciao a tutti ragazzi, guardate che siamo nel backstage adesso e siamo con l'ideva Ciao Ma le avete visto, sono state fabolose ragazzi Grazie, grazie mille Ma lo siete stati, ma come lo sentite adesso? Benissimo, un'emozione indescrivibile, io stiamo riguardando adesso l'esibizione E sono veramente soddisfatta di quello che abbiamo fatto Perché è un lavoro di tanti mesi, racchiuto poi in tre minuti di conferma Sì, sono molto felice Che meraviglia Ragazzi, la vostra canzone, Fiori su Marte, è bellissimo quel verso Qui si spezza la voce per il suo marco E qual è il significato poi di tutta la canzone per voi? La canzone parla di un destino in concluido Dove ci sono due anime che si incontrano E il legame fortissimo, ma a un certo punto devono dividersi, devono separarsi Purtroppo rimane solo la rinità di Cianetta Dove non c'è più vita con Marco Allora, io ve lo auguro stasera di 10 Grazie E poi, come potete modificare? Noi li seguiamo assolutamente, c'è uno spettacolo incredibile È un palco, ma di essere veramente in un altro pianeta E quindi... Su Marte Su Marte Quindi speriamo di prendere quella navicella E arrivare a fare la formazione Speriamo che possa essere il nostro Marte Esatto Ma un palco di Liverpool Ma speriamo... Ecco, Liverpool cosa mi diceva la città? Io non l'ho mai vista No Mai state No, come no? Liverpool mai E allora io ve lo auguro perché è una città veramente... Quindi sarà doppiamente emozionante Dobbiamente emozionante E ragazzi, mi raccomando che non siete bruciate per il tema E io adesso vi dico una cosa Mi dico veramente prima Tanto ci stiamo in struttura pubblico Voi avete il video Nella sociale di Dice E quindi voi siete stati La nostra scelta Ma che Dio! Sono in serio? Sono in serio? Ma lo dico io, ma è così Non è mai tu però Dalla truccatezza che teme La ragazza Grazie 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 E ragazzi Prendiamo le dica incrociate per vedere Dai Ciao Go Power Ciao Ciao Go Power Ciao